Benvenuti nella controrassegna stampa delle notizie di diffusa in Italia dei media euro-atlantisti. Iniziamo dal grande attentato terroristico di ieri pomeriggio sera a nord della capitale russa, a nord di Mosca. Qualcuno, dalle fonti della prospettiva russa, si è azzardato anche dentro le istituzioni di accusare direttamente l'Ucraina. Per esempio, andiamo a vedere le parole di un senatore molto importante, varie commissioni, comitati, sicurezza, parlamentari russi, della federazione russa guidata da Vladimir Putin. L'Ucraina, attentato dell'Ucraina di Kiev, il suo virgolettato, quello al Kroku City Hall, sala concerti e centro commerciale in una cittadina, un sobborgo a nord di Mosca. Devono essere liquidati immediatamente sul posto, non devono poter fuggire. A dirlo è Viktor Bondariev, RIA Novosti, agenzia stampa russa, proprio ieri un commento quindi a caldo. Lui è il capo vicepresidente, quindi il primo vicepresidente, della commissione difesa del consiglio federale russo. Parla di un sabotaggio ucraino, di una tragedia, di un attentato di terrorismo di Zelensky, Shmiel e gli altri. E lo stesso uomo da Mosca propone delle misure immediate di rafforzamento dell'identificazione e del controllo delle forze di sicurezza russe, che vanno poi a garantire la pace per quanto riguarda i vari eventi, concerti, musei, quindi i centri più vulnerabili per gli attentati terroristici contro popolazione civile in tutta la Russia. L'accusa invece del presidente della Serbia, di Belgrado, Aleksandar Vucic, Serbia molto amica storicamente e culturalmente della Russia, Serbia che non fa parte della Nato ma vuole entrare in Unione Europea. Questo per fare un quadro della situazione. Grande alleato per esempio del primo ministro inglese Orban Viktor. Gli Stati Uniti sapevano, dice Vucic, E perché non hanno fatto di più per evitare quello che è successo? Aleksandar Vucic ha puntato il dito contro l'ambasciata americana e inglese, anche inglese, sul fatto che avevano delle informazioni come diffuse poi l'allarme il 7 marzo scorso sul sito ufficiale, per esempio, dell'ambasciata a Mosca degli Stati Uniti d'America. Sapete tutte le diatribe tra l'ambasciatrice americana in Russia e il governo, presidenza di Putin, di Misciustin, eccetera. In terviste Ucic ha Prva TV, quindi televisione serba, in cui ha parlato del grande rischio della famosa escalation, come dicono i globalisti, dell'allargamento del conflitto in Ucraina, proprio in seguito a questa tragedia, attentato terroristico, e un conflitto che potrebbe diventare di scala globale, proprio per un coinvolgimento diretto della Nato. Sapete anche la storia di Macron, l'invio di squadra, anche oggi ne parleremo un po' un pochino più in là, fra qualche istante. Il Vucic, il presidente serbo, ha poi convocato un consiglio straordinario di difesa nazionale serbo. Milo Raddodic, presidente della parte dello Stato federato serba, Milo Nans serba, parte est-orientale della Bosnia e Herzegovina, ha condannato anche lui gli attentati, tra i primi addirittura a livello mondiale, l'attentato a Mosca. Ringrazio Federica per il nuovo contributo a questa controinformazione che cerca di portare la prospettiva più in ombra in Italia. Come commenta Irextro, Vodaytash, vari giornali conservatori ungheresi, neutrali o filorussi, cercano di far passare il mondo come stupido. Perché? Perché varie fonti occidentali, americane in primi, se anche in Italia, copia e incolla, riportano una presunta dichiarazione di responsabilità, rivendicazione dell'attentato di Mosca dello Stato islamico, quindi matrice islamista. Un attentato contro un evento cristiano che si sarebbe svolto nei pressi della sala concerti a nord di Mosca e del centro commerciale della zona, quindi molto frequentata da cristiani anche per quell'evento. Questa sarebbe poi la funzione dell'attacco in prospettiva islamista, secondo questa rivendicazione. Ci sono molti dubbi, tutto è molto in divenire. Vi parlo alle 9.41 di sabato 23 marzo 2024 per la precisione, per capire il contesto. Come si legge nel comunicato una rivendicazione che sarebbe da attribuire all'ISIS secondo anche il servizio pubblico italiano, i combattenti dello Stato islamico sarebbero fuggiti, tornati a casa, in sicurezza alla loro base di partenza, forse fuori dalla federazione russa. Come riporta scrive poi anche il Guardian, guardate caso che è la fonte di molte falsità, per esempio sull'Ungheria di Orban Victor, ve lo dico per esperienza diretta degli ultimi decenni, dal 2010 almeno in poi. Gli Stati Uniti d'America hanno avuto delle reazioni molto molto controverse che pongono molte domande, dice Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, intervistata ieri sera a Rassia 24, canale televisivo russo. Dice la Zakharova, molti dubbi soprattutto sul fatto che la Casa Bianca si è precipitata subito a rassicurare il mondo che l'Ucraina non c'entra, non c'entrebbe assolutamente niente con gli attacchi di Mosca, quindi Kiev assolutamente è strana nei fatti. Una reazione particolarmente strana dopo una tragedia, un attentato terroristico, quella a Mosca, è quella del presidente lettone Edgar Srinkevich, lo conosciamo molto ucrainista, molto ultratalantista, per moltissimi russofobo. Scrive, in che mondo pazzo viviamo? Questa è la reazione sua a quello che è successo a Mosca, quindi altro che condannare il terrorismo contro popolazione civile. Per quanto riguarda i dubbi, per esempio, di questo profilo su TwitterX, Russian Market, la rivendicazione Isis sarebbe assolutamente falsa, poi riportata soprattutto all'inizio da Osin Defender, che sarebbe vicina a ambienti ucranisti e atlantisti. Perché? Perché sarebbe falsa questa rivendicazione dello Stato islamico. Per la grafica usata, la grafica non sarebbe da attribuire assolutamente a quella attuale, usata proprio dallo Stato medio orientale, che ancora persisterebbe, secondo anche diversi analisti, qui in Ungheria, tra Siria, Nord Siria e Iraq. Per quanto riguarda poi un altro mistero, tutto è in divenire, non sappiamo se sono cose fondate, infondate, quale sia la verità, la verità è la prima a morire in guerra, anche in questa guerra asimmetrica portata in Russia con attentati terroristici contro i civili. Una Renault bianca, un'auto, sarebbe fuggita, è stata intercettata, arresti, nella regione Ibrianska, al confine Ucraina, in direzione proprio del confine ucraino del 91, arrestati dalle autorità, dall'FSP, autorità russe, quattro cittadini taggiri, coinvolti, secondo l'accusa, nell'attentato di Mosca. Fuggivano in Ucraina, quindi in controtendenza rispetto a quello che si diceva nel comunicato dell'ISIS, presunto comunicato dell'ISIS, di poc'anzi di prima. Il presidente francese dell'Iseo Macron, secondo fonti presidenziali francesi riportate a Politico.eu, sarebbe molto arrabbiato, perché l'Ucraina molto presto potrebbe crollare in vari fronti di guerra contro le forze russe. L'idea di mandare squadre NATO in Ucraina, Macron sappiamo che ha cominciato a creare una coalizione internazionale, proprio per mandare più contingenti, decine di migliaia di uomini, soprattutto nelle zone di Kiev e Odessa, a difesa di una possibile avanzata strategica russa. Nell'Ucraina del 91 più a ovest rispetto ai vari teatri di guerra, ai fronti più caldi attuali. La Francia, secondo Macron, sta vivendo un rischio esistenziale per l'avanzata russa, quando la Francia è a qualcosa come 3.000 km più a ovest di distanza rispetto all'Ucraina. Mistero sul perché, per esempio, l'Ungheria confinante con l'Ucraina, non parli in questo modo. Thierry Barkhard, che è il capo di Stato maggiore francese, ha fatto il paio con le dichiarazioni del Presidente dell'Elisea, ha detto che le squadre occidentali NATO potrebbero arrivare nel prossimo futuro, proprio in Ucraina, confermando le parole di Macron. Non contraria all'idea, quindi aperti a discutere, l'invio sempre di squadre militari NATO in Ucraina, Estonia, Repubblica Ceca, Finlandia e anche Sikorsky, come ricordiamo qui dalla Polonia. Avrete visto tutti, anche sul TG1 Rai, la foto pubblicata dall'Eliseo di Macron, macio, macismo di Macron, per rispondere a Putin, addirittura ho letto da Huffington Post. L'America, i Stati Uniti d'America, avrebbero chiesto all'Ucraina, di Zelensky, di non bombardare le raffinerie di petrolio in territorio russo, perché Biden soffrirebbe, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre contro Trump, quindi il partito repubblicano, per un innalzamento dei prezzi del petrolio che peggiorerebbe, secondo politico.us, la filiale americana e la filiale di Bruxelles, di questo giornale atlantista, per l'inflazione e l'aumento dei prezzi anche e soprattutto del carrello della spesa in America. Peggiorerebbe il morale degli americani rispetto a una considerazione positiva, tra virgolette, della presidenza Biden negli ultimi quattro anni dal 2020. Questo, quindi, porterebbe a un aumento dei prezzi che già sono aumentati per quanto riguarda il petrolio, quindi la benzina in America, del 60% del prezzo rispetto al 2020 dell'era, quindi, Trump. Orban, il primo ministro ungherese, è un dittatore, un paria di Putin. Parola di Irina Geraschenko, parlamentare di Kiev, della Verovna Rada, del partito Solidarietà d'Europa. Parole pronunciate in un forum, al suo fianco, un certo Jaroslav Jurchicin, che, essendo presidente della commissione parlamentare della Verovna Rada per la libertà di parola, di espressione, cercato di frenare un po' queste parole. Infatti, lei ha detto che le dittature non diventano dittature le democrazia all'interno dell'Unione Europea, della Nato, quindi, riferendosi all'Ungheria di Orban, ma lì, dentro all'UE, alla Nato, diventerebbero dei paria di Putin, come la democrazia di Orban. Quindi, qualcuno ha cercato di fermarla senza successo. Grande diplomazia ucraina. A proposito, il grande, grandissimo Alexei Danilov, presidente della commissione difesa nazionale ucraina, tutti saprete ormai chi è, ha offeso un alto diplomatico cinese per il suo nome, per la vicinanza del nome di Li Hui ad una parolaccia in lingue slave e anche in ucraino. Dice Danilov al cinese è Kiev, solo l'Ucraina a decidere il suo futuro. Non la Russia che ha aggredito l'Ucraina dal 2022 e non deve essere un certo cui o come diavolo si chiama a decidere per noi sui nostri confini sulla pace perché la Cina parteciperebbe ad un congresso trattative per un cessare del fuoco e una pace solo con la partecipazione della federazione russa anche, non solo dell'Ucraina perché tutto è partito poi dal nome del cinese che sarebbe da accostare sarebbe molto simile alla parola usata per descrivere il membro l'organo sessuale genitale maschile in lingua ucraina e anche in varie lingue slave. Per chiudere è stoccata il ministro degli esteri ungherese Siarto Peter che vedete in foto a Vera Eurova vicepresidente della commissione europea di Ursula von der Lügen e commissaria della trasparenza alla democrazia amica della famiglia Soros se preferite Soros anche del figlio Alexander che ha ereditato la Open Society dice Siarto la cieca soffre di una pesante ungarofobia perché sottovaluta cerca di umiliare mediaticamente il popolo ungherese che ha eletto il governo dice Siarto Vera Eurova forse per lei è molto insolito che come in Ungheria i governi le persone siano elette direttamente dagli elettori come non succede invece per la commissione europea eletta indirettamente quindi dal Parlamento e non dagli elettori cittadini europei dell'Unione Europea Eurova poi ha suggerito tutti i partitori di togliere il diritto di veto e di voto a paesi come l'Ungheria per la cattiva linea soprattutto in politica estera ma non solo per la democrazia la violazione dei diritti valori UE e lo Stato di diritto europeo la solita caccia alle streghe che va avanti dal 2010 dice Siarto la Eurova si dovrebbe vergognare dell'Unione Europea che ha lasciato in eredità dopo i suoi ultimi 4 anni di regno è molto peggiorata rispetto a quella addirittura di Juncker David Pressman se la prende anche con l'ambasciatore americano in Ungheria attivista LGBT mandato a Biden per fare opposizione a Orban altro che diplomatico non è un diplomatico dice Siarto Pressman è un attivista politico della nuova sinistra e le sue dichiarazioni lo dimostrano lui Pressman che è stato anche convocato da Siarto l'altro giorno raccontato Siarto che ha anche ricordato a Pressman come l'Ungheria abbia giocato col suo esercito un ruolo fondamentale nella evacuazione da Kabul dall'Afghanistan nel 2021 di molti cittadini americani e di come l'America non abbia avvisato i suoi cosiddetti alleati cioè stati satelliti ordinato proprio per quanto riguarda la ritirata molto disastrosa ricorderete le immagini dell'aeroporto di Kabul non avrebbe assolutamente avvertito nessuno su questa decisione molto repentina avrebbe lasciato quindi i cosiddetti alleati soli in quella situazione di crisi drammatica con molti morti grazie per aver visto questo video al prossimo tra Italia e Modio Orsag Orsag Orsag